Chiunque abbia studiato la democrazia sa che quando Tocqueville va in America la cosa che nota è che gli americani quando c'è un problema si associano. La democrazia è pluralismo associativo, cioè la costruzione di gruppi che sono portatori di interessi, alcuni più validi di altri, ma la democrazia è incontro e scontro fra questi gruppi. Disintermediare è francamente difficile, ma comunque è un errore. Anche democratico, se c'è il rapporto tra un uomo non so quanto solo, perché amici ne ha di intorno, e l'elettorato, senza mediazione, siamo in una situazione tecnicamente populista. Poi naturalmente i populisti devono... Ma è una concezione che c'aveva anche Berlusconi questa, no? E' certo, l'idea che se hai avuto i voti fai quello che vuoi, non è così, perché ci sono altre istituzioni che devi rispettare, e non solo la magistratura. Per fortuna c'è anche un Presidente della Repubblica, come abbiamo visto, c'è un Parlamento che qualche volta potrebbe darsi anche una regolata in più.